Musica 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 Abbiamo un'intervista con Stefano che vediamo se abbiamo in linea. Allora Stefano ha fatto un'attesi di laurea sul tema della crisi. Musica Pronto Ecco pronto Adesso siamo in diretto ufficialmente. Ci sei, ci sei, ci sei, ci sei. Vi sento male ma ci sono. Adesso ci senti un po' meglio? Un po' meglio. Un pochino meglio. Allora siamo qua in 7, 8, 9 persone. Tu non so se hai sentito finora le nostre lucubrazioni. Sì, sì sentivo sempre male però ho ascoltato quello che sono. Ecco. Allora niente a questo punto noi ti chiamiamo perché la cosa si fa seria. Eravamo arrivati alle isole vergini per parlare di illusione fiscale quindi anche un po' dal mio punto di vista di, non so, si parla molto di patrimoniale per esempio però non si tiene conto che la patrimoniale verrebbe comunque applicata alle cose che sono in chiaro. E queste, 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 queste società, questi capitali nascosti non sarebbero comunque oggetto di tassazione. Tu comunque Stefano, al di là di queste cose che riguardano la manovra adesso, quello che sta succedendo, hai fatto una tesi importante. Ci sei laureato quando intanto? Mi sono laureato qualche mese fa in, in filosofia in realtà. Perfetto, però la tua ricerca, spiegaci un po', il tema che hai scelto. Sì, io essendo un po' schizofrenico, nonostante mi sia laureato in filosofia, ho deciso di fare una tesi magistrale sulla finanziarizzazione dell'economia. e ho deciso di affrontare questo tema proprio per la sua importanza nella comprensione della società attuale. In particolare il valore aggiunto così che i miei studi di filosofia potevano portare era un'interpretazione che si basasse sulla teoria del valore di Marx. Perché? Marx ha scritto circa un secolo e mezzo fa e però ha detto una cosa che ancora oggi ci può venire molto utile, cioè che il denaro non lavora e il denaro non crea denaro da se stesso. E questa cosa è fondamentale per una comprensione rigorosa del fenomeno della finanziarizzazione, del progressivo dominio della finanza. Infatti oggi gli economisti più in voga o anche le istituzioni e media interpretano il processo di finanziarizzazione in genere come un autonomizzarsi della sfera finanziaria dalla cosiddetta economia reale. E tuttavia analizzando rigorosamente quello che è successo negli ultimi trent'anni a livello socio-economico è possibile quantomeno mettere in dubbio questa interpretazione. Infatti man mano che procedevo nell'elaborazione della tesi mi rendevo conto che sempre di più dovevo in realtà concentrarmi sulle dinamiche proprie del mondo produttivo, del mondo lavorativo. Dunque, quello che vediamo succedere oggi, anche nei suoi risvolti più politici diciamo, la causa di tutto ciò non va cercata semplicemente in ciò che fanno le banche o le istituzioni finanziarie secondo me, ma va cercata altrettanto nelle imprese industriali, in quello che è successo alle imprese industriali in questi trent'anni di neoliberismo. Questo per due ragioni principali, intanto perché sono le stesse imprese industriali che in questi trent'anni hanno sempre più teso a fare profitto, ad accumulare ricchezze mediante il commercio di capitale, mediante i meccanismi finanziari, piuttosto che mediante il lavoro. Quindi non solo le banche, ma anche le imprese industriali. Ne abbiamo un esempio sotto mano con l'esempio della Fiat, ad esempio. La Fiat impegna sempre più risorse in attività che una volta si sarebbero dette bancarie, e sempre meno risorse nell'attività produttiva. Stefano. Scusami Stefano, stavo pensando a quello che dovevo dirti più che al nome. No, vengo proprio, adesso che tu hai tirato fuori questo argomento, perché mi sembra cruciale quello che stai dicendo. Possiamo affermare che, tu adesso hai citato la Fiat, ma comunque le imprese si sono messe a cercare i profitti nella finanza, perché nella produzione reale, nella produzione della merce, negli ultimi anni non veniva più garantito quel profitto, quell'aumento del tasso di profitto che era invece garantito negli anni precedenti. Cioè, voglio dire, è stato questo un ripiego del mondo produttivo a cercare di far profitto comunque, proprio perché veniva meno quel profitto che si era avuto negli anni precedenti? Allora, in un certo senso sicuramente sì. La questione però è molto compressa. Allora, diciamo, innanzitutto che questo processo di finanzializzazione, possiamo datarlo, possiamo dire che è iniziato all'incirca tra gli anni 70 e gli anni 80. Ed è stato esattamente il momento in cui si cercava di uscire dalla cosiddetta crisi di accumulazione, che si era verificata nel capitalismo occidentale verso la fine degli anni 60. E questa crisi di accumulazione altro non è che quello che hai detto tu in questo momento, cioè una crisi dei profitti delle imprese industriali. E allora naturalmente la reazione è andare a cercare i profitti là dove si trovano. Però non è stato semplicemente un ripiego delle imprese. È stata una strategia che è molto complessa, che ha coinvolto il livello politico, il livello sociale, il livello economico e il livello finanziario per portare, diciamo, l'economia mondiale ad essere un'economia adatta a farci che le imprese potessero cercare questi profitti nel mondo finanziario. Non so se mi sono spiegato bene. Aiutami però, nel senso che, non so, io proverei a dirla così. Cioè se prima il mio scopo è partire da un determinato montare di denaro, produrre merci per poi aumentare la quantità di denaro disponibile, produrre merci non mi assicura più questa condizione e tutto il mondo finanziario si ristruttura per fare in modo che con altri strumenti si riesca a supplire a questo deficit. Cioè se io ho un capitale e voglio, producendo merci, arrivare ad avere un capitale più elevato e questa cosa non ce l'ho, mi ristrutturo tutto il sistema del credito e della finanza per far sì che questo passaggio attraverso la merce non sia più necessario. Sì, 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 in soldoni è assolutamente questo. Il fatto però, e naturalmente il motivo per cui non si riusciva più ad aumentare il capitale mediante la produzione di merci, sta nel fatto che queste merci non si riusciva a venderle, la cosiddetta crisi di sovrapproduzione, no? Ma poi questo è tutto un altro... E quello che però è importante capire, quindi possiamo dire esattamente così come hai detto tu, Quello che però è importante capire è che tutto questo sistema che è stato creato si basa in realtà su una bugia e cioè che ci sia un modo alternativo alla produzione di merci, al lavoro sulle merci per produrre ricchezza. Quello che si può fare mediante la finanza e mediante il dominio della finanza è redistribuire la ricchezza ed è esattamente quello che è successo negli ultimi trent'anni. E questo è il secondo motivo per cui parlare del dominio della finanza come di un'autonomizzarsi della sfera finanziaria errato. Perché, e prendiamo di nuovo l'esempio della Fiat, la Fiat sta investendo sempre più ricchezze nel suo settore finanziario, addirittura delle banche in Argentina, ma sta anche aumentando i suoi livelli di profitto, nonostante faccia lavorare sempre meno e sempre meno gente. Come lo sta facendo? Lo sta facendo riducendo i diritti dei lavoratori, lo sta facendo esternalizzando, precarizzando i lavoratori e sostanzialmente questo si traduce in meno ricchezza che quei lavoratori lavorando possono acquisire e si traduce in più ricchezza che la Fiat invece può accumulare, anche se fa lavorare meno. Allora, questo è quello che è accaduto a livello sistemico, esattamente questo, cioè attraverso tutte le politiche neoliberiste che ormai sono abbastanza note, le strategie, la cosiddetta globalizzazione che ha portato a...